Non c'è dubbio, il meglio di Parma-Lecce sono i tre gol, quindi al cronista correrebbe l'obbligo di proporli in apertura, ma a far cronaca sono anche i fischi che Carlo Ancelotti è andato a cercarsi sfidando il pubblico quando, togliendo le due punte Crespo e Chiesa, ha mandato in campo Crippa e Fiore, centrocampisti, a difendere il 2-1. Io non ho sfidato nessuno, pensavo in quel momento che la squadra era in difficoltà di rinforzare la zona di centrocampo, tutto qua non era sicuramente un atto di sfida. Evidentemente troppo importanti tre punti anche perché incamerati quando l'Udinese sgambetta l'Inter, ma eccoli i gol della premiata ditta Dino Baggio ed Enrico Chiesa dopo un primo tempo da 0-0. Prima va a segno su Perdino, su angolo di Chiesa. Poi, sempre nella ripresa, è Baggio a conquistare palla allungando a Blomquist che provoca Chiesa al punto da indurlo a scodellare in rete, uccellando Lorieri, per la verità in libera uscita. Da applausi anche il contropiede dettato da Piangerelli e che ha portato in gol Rossi, dopo che Atelkin, il migliore dei suoi insieme a Ciprienne, aveva centrato il palo. Quando esce Milanese il pubblico gli riconosce il merito di aver ben tenuto sulla sinistra, insieme a Blomquist. Sul 2-1 e 20 minuti da giocare, come detto, Ancelotti ritira le verte e mobilita la fanteria. De Francesco, che aveva rilevato Casale e sfidato il migliore Buffon, in unità di intenti con Rossi, Atelkin e Martinez, detta il ritmo del gioco. E insieme mettono in soggessione il Parma, con la sola solita eccezione per Cannavaro, un centrale di leonina autorevolezza. Sì, siamo un po' stanchi di ricevere dei complimenti, ma pochi punti. Speriamo che il 98 ci porti un po' più di fortuna. Buona fortuna a Lecce. Il Parma, dal canto suo, torna sulla scia di Inter e Juventus. Il campionato recupera interesse e una coppia, Dino Baggio ed Enrico Chiesa, che Cesare Maldini non potrà più far finta di ignorare. Buon Natale anche a loro.